La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questo è l'articolo 4 della Costituzione italiana, quello che appunto ci parla di lavoro e all'interno troviamo due termini, due parole di riferimento. La prima è diritto e la seconda è dovere. Il diritto che è promosso dalle decisioni politiche e che crea le condizioni proprio per questo diritto e per l'effettivo svolgersi del lavoro. E poi invece abbiamo la risposta da parte dei cittadini e delle cittadine nello svolgere il dovere di quello che lo Stato ha reso possibile. Ed è proprio intorno alle condizioni del lavoro e quindi la possibilità del diritto che si svolge molto del dibattito che è sempre accompagnato la politica e il rapporto tra la politica e la società. Se pensiamo infatti a quest'ultimo anno e a quanto di queste condizioni è venuto meno l'impossibilità di lavorare proprio dettata dalle scelte politiche e quindi anche per quanto riguarda la mia generazione come è cambiato il mondo del lavoro e come sono cambiate quindi queste condizioni e anche il gap che si sente che esiste tra il diritto del lavoro e l'applicazione di questo diritto sulla vita e sul lavoro di cittadini e le cittadine. Il problema è proprio che se questo diritto non viene percepito, se queste condizioni non si creano nella società diventa ancora più improbabile rispondere con il proprio dovere e quindi concorrere a questo progresso ed è proprio la parola progresso che quindi viene a mancare nel momento in cui vengono meno le condizioni del lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.